Sono passati 71 anni da quando le lacrime della Madonna sono state teneramente versate in terra siracusana. Telecittà, in collaborazione con Sesta Rete TV, trasmetterà in diretta i quattro giorni dell'anniversario dal 29 agosto al primo settembre. 71esimo anniversario della lacrimazione di Maria a Siracusa, l'evento che ha segnato la città di Siracusa, dal 29 agosto al primo settembre, dalle ore 18 e 30, in diretta su Telecittà e Sesta Rete TV, canale 81, del digitale terrestre.